Buonasera, mezzanotte e 49 minuti è l'ultima edizione del nostro telegiornale. Partiamo con la politica perché non accenna a diminuire la conflittualità all'interno della maggioranza di governo per i presunti fondi di Mosca alla Lega. Salvini è incalzato da Di Maio e dall'opposizione perché risponde in Parlamento ipotesi sulla quale c'è solo una debole apertura del Premier leghista. Ancora al centro dello scontro politico il caso del presunto finanziamento russo alla Lega. La giornata nel corso della quale Salvini sembrava ritenesse possibile un suo intervento in Parlamento per riferire sulla vicenda si chiude con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il pentastellato Riccardo Fraccaro che chiarisce di non aver avuto alcuna risposta dal Ministro Matteo Salvini alla richiesta del PD e un'informativa in aula sui presunti fondi di Mosca alla Lega. Una notizia che provoca una reazione dura da parte del Partito Democratico. Già da giorni sulle barricate per questa vicenda i deputati Demme decidono di sospendere le attività parlamentari e inoltre ad occupare la Commissione Affari Costituzionali impegnata nell'esame del decreto sicurezza bis. E Zingaretti avverte non è nelle prerogative di un Ministro sottrarsi alla volontà del Parlamento. Inoltre si diffonde anche la notizia di una possibile convergenza dei pentastellati con il PD per chiedere al Presidente del Consiglio Conte di riferire alle Camere sul caso. Ma la maggioranza di governo vive l'ennesima giornata di tensione al suo interno. Inizia il Presidente della Camera, 5 Stelle Roberto Fico, che avverte se Salvini decide di venire quella del Parlamento la strada giusta. E a stretto giro arriva anche un nuovo attacco da Luigi Di Maio che allarga il tiro. Se uno vuole incontrare i sindacati lo può fare, se non serve a sviare l'attenzione su questioni più grandi. Sono sicuro che Salvini andrà in Parlamento per chiarire sui fondi russi. Pronta la risposta del Ministro dell'Interno? In Parlamento spiega, ci vado sempre, due volte a settimana per il question time, parlo di tutto, rispondo a tutti, su mafia ogni altro argomento. Una mezza apertura però che il Ministro Fraccaro smentisce. E a proposito della questione russa e attraverso un messaggio Whatsapp, è uscito allo scoperto il terzo italiano, sarebbe Francesco Vannucci, presente all'incontro con la delegazione russa per il quale, nell'inchiesta della Procura di Milano sui presunti fondi neri della Russia alla Lega, è indagato per corruzione internazionale Gianluca Savoini, fondatore dell'Associazione Lombardia-Russia. Vannucci, 62 anni, ha detto, ho partecipato all'incontro al Metropol di Mosca il 18 ottobre scorso, insieme a Gianluca Savoini e l'Avvocato Gianluca Miranda, e ha spiegato come da anni collabori con l'Avvocato Miranda e che lo scopo dell'incontro con i russi era prettamente professionale, si è svolto tutto nel rispetto dei canoni e della deontologia commerciale. Parliamo ora di Ursula von der Leyen, che oggi è stata eletta Presidente della Commissione europea, un'elezione non proprio agevole, quasi sul filo di lana, con l'apporto decisivo dei voti dei pentastellati. Per un soffio servivano 374 voti per ottenere la maggioranza, ne sono arrivati 383. Per nove voti l'ex Ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, è diventato la nuova Presidente della Commissione europea. «Spero in un'Europa unita che combatta contro le sfide del futuro e non contro se stessa», sono state le sue prime parole. Prima del voto era sembrato che la strada fosse sufficientemente spianata, visto che i socialisti con una nota avevano annunciato che avrebbero votato a favore, ma tra sovranisti e franchi tiratori è stata una vittoria sul filo, 51,27% dei voti, Jean-Claude Juncker ottenne il 56,19%. Sostenuta da popolari, di cui fa parte, liberali e socialisti, si è visto che i gruppi hanno votato tutt'altro che compatti, visto che all'appello mancano una settantina di voti. A fare due conti, sembra che dei terminanti siano stati 14 voti favorevoli del Movimento 5 Stelle, che ha disegnato così ancora una volta la distanza con la Lega, che invece, come tutti i sovranisti, ha votato contro. Gelido, questa mattina il commento della von der Leyen, sono contenta di non avere quei voti, aveva detto nel suo discorso prevoto. Ad ogni modo si apre così la presidenza per la prima donna della storia a guidare la Commissione e via al suo programma, lotta ai cambiamenti climatici e all'immigrazione clandestina, ma con l'obbligo dei salvataggi in mare, salario minimo e sussidio di disoccupazione garantito. Altri otto carabinieri sono stati rinviati a giudizio per la morte di Stefano Cucchi. Ci sarà quindi un nuovo processo, il quarto aperto su questa vicenda. Tra gli imputati ci sono alti ufficiali, compreso il generale Casarsa, all'epoca dei fatti capo del nucleo operativo di Roma. Secondo il pubblico ministero sarebbero responsabili dei presunti repistaggi relativi alle cause della morte del giovane ragioniere romano. Avrebbero in pratica modificato i documenti ufficiali stilati subito dopo l'arresto del geometra romano per nascondere il pestaggio che aveva subito. È un momento storico, dice la sorella Ilaria, decisero la morte di Stefano a Tavolino. Oggi il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto delle tre persone fermate ieri con l'accusa di resistenza aggravata a pubblico ufficiale durante lo sgombero dell'ex scuola di Prima Valle occupata da 340 persone. Due sono cittadini del Marocco, padre e figlio, la terza è una donna italiana. Sono stati condannati per direttissima ad un anno di reclusione con la condizionale, ma ora sono liberi. Oggi critiche durissime allo sgombero sono arrivate dalle pagine del quotidiano avvenire a Prima Valle, vie e bambini, attacche al giornale cattolico, Casa Pound no e le famiglie sì. Titola il quotidiano della conferenza episcopale italiana riferendosi all'edificio occupato dal movimento di estrema destra nel centro di Roma. E parliamo del calcio a mercato, perché molti tastelli stanno andando al loro posto. Stasera è sbarcato a Torino il difensore dell'Ajax Delict, acquisto prestigioso della Juventus, mentre la Roma ha piazzato due colpi, quello di Mancini proveniente dall'Atalanta e quello del francese ex Fiorentino ormai Vertu. Dopo tanto parlare, le chiacchiere almeno per qualche ora lasciano spazio ai fatti. E il fatto più rilevante è l'atterraggio due ore fa di Mattias Delict a Torino. L'ormai ex capitano dell'Ajax, a cui andranno 75 milioni, passate le visite mediche, sarà ufficialmente abile e arruolato in bianco-nero due giorni prima della partenza per la torna in Cina. Le ultime ore hanno visto protagonista anche il Napoli, con De Laurentiis che ha abbandonato almeno momentaneamente la corsa a James Rodriguez, se non riuscirà ad averlo in prestito dal Real Madrid, e soprattutto la Roma, che ha vinto il match di mercato con il Milan per il centrocampista della Fiorentina a Veretù, portato nella capitale con un esborso di 20 milioni complessivi. E mentre a Trigoria è stato presentato oggi il portiere Paolo Lopez, il giallorosso vestirà anche Gianluca Mancini, il difensore centrale tanto richiesto dopo le partenze di Manolas e Marcano. Nonostante gli arrivi di peso però, la scena giallorossa stasera se l'è prese il grande partente dell'ultima stagione, Daniele De Rossi. De Rossi continuerà a giocare, ma per scelta di cuore non in Italia. Potrebbe essere invece il Boca Juniors la destinazione più prossima, complice l'invito dell'ex compagno di squadra Burdisso, oggi di essere il club argentino. Di certo, una destinazione particolarmente gradita a De Rossi, che già nel 2015 si faceva fotografare con una maglia del club di Buenos Aires. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento.